Ho sempre pensato che il Gore-Tex fosse la miglior membrana da mettere su un paio di scarponi. Membrana in Gore-Tex che svolge un eccellente lavoro, però vabbè, qui non avevamo dubbi perché il Gore-Tex è sempre il Gore-Tex. Per quanto riguarda l'impermeabilità, abbiamo una membrana Gore-Tex che svolge benissimo il proprio lavoro. Gore-Tex da questo punto di vista è una garanzia. Beh, che dire, il Gore-Tex è sempre una garanzia veramente. A livello di impermeabilità, per quanto riguarda l'automaia, non ci sono naturalmente nessun problema. Anche se non sono proprio convintissimo che il Gore-Tex fosse la miglior membrana per questo scarpone. Per il semplice fatto che questo scarpone, quando si bagna, ma che faccia una ciaspolata lunga, tende a rimanere poi umido e bagnato. L'automaia esterna tende a rimanere umida e bagnata per diverso tempo. Dopo quella recensione, in tantissimi mi avete consigliato di paragonare il Gore-Tex ad H-Dry. Oggi andiamo a vedere i test e i risultati che ne sono usciti. Il primo test che andiamo a fare è un test sul campo. Infatti, ci troviamo a Campomoro, in Alta Valmalenco, in provincia di Sondro. Lì dietro ci sono le dighe. E andremo a testare sul campo uno scarpone in Gore-Tex e uno scarpone H-Dry. Ma perché il test venga bene, innanzitutto dobbiamo prendere il peso di ogni singolo scarpone prima di iniziare l'escursione. Inizio spiegandovi quali scarponi utilizziamo. Nella rappresentanza di H-Dry abbiamo qua degli scarpa Ribelle HD numero 47, il mio. E in rappresentanza del Gore-Tex abbiamo dei Saleva Rapace GTX numero 36 di Sara. Prima cosa che facciamo è quella di andare a prendere il peso a iniziare l'escursione. Perciò prendo un mio scarpone, magari il destro, lo mettiamo sulla bilancia. 847 grammi. Ok, 46. Ricordiamocelo perché ci servirà alla fine per vedere la differenza di peso. Scarpone di Sara numero 36, 566. Quindi questo è il peso degli scarponi a iniziare l'escursione. Mentre passo sulla diga di Campo Morgan, dall'altra parte della valle, per intenderci là dietro si vede il rifugio Bignami e il ghiacciaio di Fellaria, vi racconto un attimo in cosa consisterà il test. Visto che parliamo di membrani impermeabili, lo scopo di questo test appunto sarà stare nella neve il più possibile e vedere come queste membrane reagiranno dopo tante tante ore nella neve. Questo perché, essendo due membrane diverse, ma poi questo andremo a parlare dopo, andremo a vedere come cambia il peso alla fine dell'escursione. Cosa mi aspetto? Mi aspetto che il Gore-Tex ci tenga comunque asciutti, ma che lo scarpone col Gore tenda ad avere alla fine un peso maggiore. Ma questo lo andiamo a verificare dopo. Come vi dicevo, l'obiettivo è quello di restare con il piede della neve il più possibile. Direi che ci abbiamo quasi azzeccato, cioè non dico che abbia la neve fino al col, ma poco ci manca. E sì, abbiamo trovato una giornata in cui probabilmente la neve non sarà un problema. Beh dai, almeno ci siamo scelti una bella giornata per fare questo test. Tutto questo al gruppo del Bernina. Escursione finita. Abbiamo fatto addirittura 9 ore di escursione. Tanto che, come vedete, è diventata notte. Ora procediamo a pesare gli scarponi. Eccoci qua, la prova della bilancia dunque. Iniziamo con il mio scarpone. In H-Dry. 895 grammi. Dovrebbe essere aumentato di una cinquantina di grammi, se non ricordo male. Vediamo quello di Sara in Gore-Tex. 710 grammi. Beh, questo è aumentato invece. Sai che un 200 grammi li ho presi tutti, se non ricordo male. Ora però passiamo al secondo test, direttamente in studio. Passiamo ora al secondo test. Questo test potrete farlo anche voi a casa. Adesso vi spiego come. È veramente molto molto semplice. Avremo bisogno di un catino pieno d'acqua. In questo caso io ne ho due, naturalmente, perché confronteremo i due scarponi. E poi avremo bisogno di dei sassi. I sassi ci servono per ottenere lo scarpone bene dentro l'acqua, altrimenti galleggia e il test non riusciremo a farlo. In rappresentanza di H-Dry abbiamo sempre il Ribelle, che pesa sempre i suoi 846 grammi. In rappresentanza del Gore-Tex ho cambiato scarpone. Ho preso un K-Land Cross Mountain GTX. Ho cambiato scarpone solamente perché questo è anche lui un 47, quindi possiamo andare a confrontarli molto meglio. Vi dicevo 846 grammi il Ribelle. Vado a pesare il K-Land. Sono 836 grammi. Quindi ci sono praticamente 10 grammi di differenza. Sono quasi uguali. In cosa consiste il test? Basterà prendere lo scarpone, metterlo all'interno del nostro catino, naturalmente con il suo sasso, perché sennò lo scarpone non resta giù. E dallo stesso modo andiamo a inserire anche il K-Land con i sassi, uno tale che resti giù. Bene, ora che abbiamo messo i due scarponi nell'acqua, prendo il mio cronometro, facciamo partire un timer di 3 ore. E ora che sono partite le 3 ore, ci rivediamo qua alla fine e vedremo come sarà cambiato il peso dei due scarponi. Eccoci tornati, sono passate esattamente 3 ore, è arrivato il momento di tirare via gli scarponi e vedere quanto pesano. Iniziamo da quello in Gore-Tex. Adesso so già che farà un casino perché con tutta quest'acqua... Ok... Magari lo faccio comunque sgocciolare un pelo perché sennò faccio un casino. Accendiamo la bilancia. Un chilo è 80 grammi. Quindi all'incirca ha aumentato di 240 grammi il peso. Andiamo a prendere il Rebelline H-Dry. Andiamo a dire, non fare un casino enorme. Faccio sgocciolare un pochino anche lui. E lo vado a pesare. 930 grammi. Quindi lui è aumentato di peso solamente di 100 grammi. Quindi più o meno ci sono un centinaia di grammi di differenza. Adesso io metto a posto tutto sto casino e ci vediamo dopo per tirare le conclusioni, spiegarvi bene perché questa differenza e spiegarvi effettivamente qual è il beneficio della membrana H-Dry. Stavo sistemando tutto il casino, ma voglio farvi vedere una cosa che secondo me è eloquente. Guardate, ho tirato fuori il Keyland e guardate quant'acqua che c'è qua. Cioè questa è tutta acqua che è uscita dallo scarpone perché io l'ho semplicemente appoggiato qua sulla scrivania mentre stavo andando a tirare via l'acqua dai catini. E poi invece guardate il ribelle, lui l'ho appoggiato qua, cioè praticamente acqua non ce n'è, cioè due gocce giusto per... Adesso capiamo il perché di tutto questo. Sto sempre finendo di mettere a posto, voglio farvi vedere un'altra differenza. Praticamente anche solo tirando su lo scarpone, guardate quant'acqua che scende dal Keyland e invece quella che scende dal ribelle. Cioè se io vado a strizzarlo il Keyland probabilmente... Guardate. Guardate quant'acqua che scende. Se io invece prendo il ribelle e provo a fare lo stesso movimento, a strizzarlo, non esce niente. Ok, ora che ho sistemato tutto, vediamo perché abbiamo notato questa grossa differenza di peso una volta che lo scarpone si bagna e soprattutto con la differenza tra la membrana in Gore-Tex e la membrana H-Dry. Prima di entrare nel confronto, devo spiegarvi com'è fatto uno scarpone da trekking. Molto semplicemente. Lo scarpone da trekking possiamo dire che è composto da tre parti. La tomaia esterna, che è quella che noi possiamo toccare dello scarpone. La fodera all'interno, che per intenderci la possiamo toccare anche quella, probabilmente inserendo dentro la mano, è quella cosa morbida che sentiamo, che poi naturalmente in base allo spessore ci tiene anche caldo. E poi la membrana impermeabile. La differenza tra questi due scarponi è proprio dove viene messa questa membrana. Al di là che c'è una piccola differenza tra la membrana in Gore-Tex e quella in H-Dry, ma la differenza numero uno la fa il posizionamento della membrana. Per intenderci, la membrana in Gore-Tex viene messa esattamente attaccata alla fodera interna. Quindi noi avremo tomaia, uno spazio libero, membrana impermeabile, attaccata alla fodera interna. Ecco, intendetamente questo spazio libero tra la tomaia e la membrana impermeabile con la fodera. La membrana in H-Dry, invece, viene messa esattamente sotto la tomaia, cioè viene proprio messa sulla tomaia nella parte interna. E poi naturalmente c'è sempre un po' di spazio libero e dentro la fodera. La differenza sta proprio in quello spazio libero. Cosa succede? Che essendo il Gore-Tex messo sopra la fodera, in quello spazio libero lì va a ristagnare l'acqua. Motivo per il quale poi lo scarpone pesa di più, perché essendoci all'interno dell'acqua il peso naturalmente aumenta. Invece nello scarpone in H-Dry, essendo la membrana messa proprio sotto la tomaia, questo spazio libero resta comunque libero, ma non si riempie d'acqua. E questa è la grande diversità tra queste due membrane. Quindi quali sono i veri svantaggi del Gore-Tex rispetto ad H-Dry? Innanzitutto l'aumento del peso, come abbiamo visto, che dipende un po' da scarpone a scarpone, perché su alcuni aumenta un po' meno, su alcuni aumenta decisamente di più, ma pensate di fare un'uscita alpinistica, magari per tante tante ore, e alla fine trovi uno scarpone che pesa il doppio rispetto a quando siete partiti. Diciamo che potrebbe essere un grosso grosso problema. Ma non solo, perché essendo poi magari lo scarpone completamente pieno d'acqua, la traspirabilità all'interno diventa, diciamo, nulla. Quindi il nostro piede all'interno suderà, inizierà a creare tutta la condensa, e diventa anche quello un grosso problema. La numero tre invece è più post-escursione. Non so se vi è mai capitato di inzuppare, proprio inzuppare per bene un vostro scarpone in Gore-Tex. Quanto tempo ci ha messo ad asciugarsi? Di solito a me quando gli inzuppo per bene ci vogliono più o meno due giorni. Questo perché dobbiamo proprio far evaporare l'acqua che c'è all'interno dello scarpone. Mentre lo scarpone in H-Dry, vabbè, non aumenta di peso, non abbiamo problema di traspirabilità, e soprattutto si asciuga subito. Cioè io vi assicuro in un'ora, massimo due, se proprio l'ho inzuppato parecchio, è completamente asciutto. E se doveste pensare di fare magari dei trekking lunghi, anche di più giorni, eccetera, beh, diciamo che partire con uno scarpone bello asciutto al mattino non è mai male. So già che mi state per chiedere, e allora perché non si utilizza solo H-Dry? Il motivo è molto semplice. Quando Gore-Tex va a dare la sua membrana ai vari calzatori ficci, gli do materiali composti da fodera e membrana già preassemblati. Poi il calzatori ficci deve solo tagliarsi la parte che gli interessa, dare la forma al buti, al calzino che poi va a infilare all'interno della tomaia, e ha fatto lo scarpone. Per quanto riguarda H-Dry, invece, c'è una lavorazione completamente diversa. Va laminato con dei macchinari particolari la membrana sulla tomaia interna. Questo comporta, come vi dicevo, dei materiali molto più costosi, molto più tempo di realizzazione, e anche, alla fine, un costo maggiore per quanto riguarda lo scarpone. Questo, diciamo, è il motivo per il quale viene utilizzato magari un po' di più Gore-Tex rispetto a H-Dry, oltre naturalmente a tutta la parte di marketing, che però noi non stiamo ad analizzare. Detto ciao ragazzi, quindi, in conclusione del video, qual è la miglior membrana per uno scarpone da montagna? Beh, direi che ci potete arrivare da soli. Avete visto tutti i test? Te l'ho spiegato per bene come funzionano queste due membrane? Lascio a voi la scelta. Vi chiedo però di commentare qua sotto, nei commenti, se anche voi avete avuto modo di provare una membrana H-Dry, e come vi siete trovati. E nel frattempo, io, nella esperienza di stato esattamente esattivo anche per questo video, vi ringrazio per l'avvero guardato, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! 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 Grazie.